Quello che è chiaro è che serve oggi più che mai un Paese unito nella lotta a un nemico di tutti. È il tempo, come ha detto martedì il Presidente della Repubblica Mattarella, della responsabilità collettiva, che non significa affatto scaricare sui cittadini il peso enorme della lotta al virus, ma piuttosto vuol dire collaborare ciascuno con i propri comportamenti e le scelte a sbarrare ogni possibile strada al contagio.